La paura più grande è quella di perdere il posto di lavoro ovviamente. Stiamo vedendo un'azienda che da un po' di tempo non ci pensa più, non ci considera più. In pratica va dritta per la sua strada e non ci ascolta più. Rassegnazione nelle parole e nei volti delle lavoratrici e dei lavoratori di Brioni per un'avvertenza che sembra aver preso la strada del non ritorno. Per questo in mattinata le maestranze dei reparti di maglieria e camiceria che a meno di novità ad ottobre del prossimo anno chiuderà i battenti sono tornati a protestare davanti ai cancelli di penne. Purtroppo la paura è tanta e sta diventando una vita insostenibile dentro gli stabilimenti Roma Style Brioni soprattutto per le ultime decisioni dell'azienda prese che già sono state rese note e anche per le ultime decisioni sulla gestione del lavoro per quanto riguarda anche l'orario di lavoro il doppio turno istituito Covid a loro avviso che noi abbiamo rifiutato come organizzazione sindacale però l'azienda comunque l'ha attuate allo stesso modo giustificandole col Covid che per noi comunque causerebbero anche un'ulteriore inefficienza lavorativa che potrebbero purtroppo causare altri esuberi così come in passato è successo. L'azienda oltre agli stabilimenti di penne Montebello di Bertone e Civitella a Casanova ha una camiceria anche a Curno in provincia di Bergamo che a differenza del sito vestino non sarà toccata da questa riorganizzazione. In effetti lo stabilimento di Curno ad oggi non conta nessun esubero la nostra camiceria verrà dirottata su e quindi noi ci troveremo con 86 persone tra la camiceria e maglieria ci troveremo fuori per la soppressione di reparto e stiamo cercando di sfatare ciò che per noi sembra impossibile però cerchiamo di fare il meglio. La scelta strategica di chiudere questi reparti proseguono RSU e sindacati ci fa alzare il livello di guardia e ci fa pensare che questa possa essere solo la punta dell'iceberg. C'è il timore che non sia solo camiceria e maglieria le uniche fasi che chiudono e questo ci porta veramente ad avere molto timore. Sappiamo che qui di giovani ce ne sono ben pochi magari il più giovane ha circa 20 anni di anzianità di servizio dunque per noi è veramente un problema perché giovani al di sotto i 30 anni non ce ne sono più. Grazie. 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 Grazie.